Per concludere il corso una breve lezione molto ricca di opinioni e che possiamo chiamare E adesso? Dove andiamo con quello che abbiamo imparato? Cosa possiamo fare oltre quello che abbiamo imparato sul web? Al netto ovviamente di altri corsi che la vostra università nel vostro percorso da qui alla fine del terzo anno o perché scegliesse di fare la magistrale ovviamente potrebbe offrire come per esempio i corsi di mobile che probabilmente avranno anche una componente web per quanto riguarda la parte server side o potrebbe avere quella componente web per quanto riguarda la parte server side o corsi più avanzati che riguardano il web magari lato server o quant'altro. Ma la domanda che spesso si fa o spesso si sente è qualcosa del tipo ah ho sentito che esiste React, Angular, Vue, ho sentito che esiste TypeScript, ho sentito di questa nuova tecnologia, come faccio a stare aggiornato? Come faccio a sapere tutto questo? Quale mi serve? Qualcosa devo imparare? Devo imparare TypeScript? Devo imparare React? Devo imparare Angular? Devo impararli tutti? Devo impararli nessuno? Perché non l'abbiamo fatti in questo corso? Ecco proviamo a e questa è la parte ricca di opinione proviamo a fare un passo indietro proviamo a provare a rispondere alla domanda come faccio a stare aggiornato. Stare aggiornati, diciamo così, è da una parte impossibile. Impossibile perché il mondo del web, soprattutto il mondo web front-end, è un mondo che evolve con una velocità pazzesca. Un framework come Angular, come React, insegnato, approcciato oggi da zero, probabilmente fra sei mesi sarà diverso e buona parte di quello che avrete imparato non andrà più bene, sarà da buttare e da aggiornare. Ed appunto è un mondo che evolve in maniera velocissima rispetto ad altri settori dell'informatica. Quindi da una parte come faccio a stare aggiornato su tutto è impossibile, dall'altra come faccio a stare aggiornato è, lasciatemi dire, una domanda sbagliata. Perché non è importante tanto come faccio a stare aggiornato. La domanda giusta è come scelgo gli strumenti giusti per quello che voglio fare nel web. Questo perché appunto da una parte il web è in rapida evoluzione, in rapidissima evoluzione. Dall'altra le cose fondamentali, le fondamenta del web non cambiano poi così tanto. Il fatto che i concetti che per esempio abbiamo imparato riguardanti le single page application e è quella che abbiamo costruito per quanto rudimentale e semplice, ma quegli stessi concetti si applicano bene o male a React, che è un framework per single page application, si applicano ad Angular, che è un framework per single page application e altre cose fondamentali non cambiano di nuovo un granché. Potete fare delle get, delle post, delle put tra un client e un server. E questo è così da tanto tempo. Anche la tecnologia fondamentale utilizzata da grandi siti, se ci pensate, non è cambiata tantissimo. Facebook, facciamo un esempio, quando è nato è stato fatto in PHP. Quando è nato serviva gli utenti, gli studenti di un'università sola, di Harvard. Adesso non serve più solo gli studenti, ma è aperta a tutto il mondo, a chiunque voglia avere un account nel mondo. E quindi è ovviamente è cambiato tantissimo da un punto di vista implementativo, perché un conto è a fare un sito per cento persone, un conto è fare un sito che scali a livello mondiale, che stia sempre online, eccetera. Ma Facebook nel cuore continua a essere scritto in PHP. Ovviamente non è il PHP, o meglio il linguaggio è il PHP che potete imparare anche voi, o che qualcuno di voi sa già. Poi ovviamente non usa Apache con XAMPP per funzionare, ma ha un suo compilatore di PHP che compila PHP in maniera efficiente, molto più dell'interprete normale, che tra l'altro è open source, quindi è utilizzabile anche da altri. Quindi questo per dire che poi ovviamente Facebook ha adottato React, ha creato React per risolvere certi problemi propri di velocità, di performance e quant'altro. Ma le tecnologie fondamentali, che sono quelle che bene o male abbiamo visto durante il corso, al netto di linguaggi diversi per cui qualcuno potrebbe preferire, o potrebbe essere più utile in certi casi PHP, piuttosto che usare Java, piuttosto che usare Python, piuttosto che usare Node e quindi JavaScript. Ma al di là delle guerre da linguaggi, che non sono assolutamente importanti o rilevanti adesso, appunto i fondamentali non cambiano. E la domanda giusta è quella, la ripeto, come scelgo gli strumenti giusti, gli strumenti adeguati, gli strumenti buoni per quello che devo fare. E quindi l'obiettivo, l'obiettivo vostro secondo me dovrebbe essere quello non tanto di preoccuparsi come stare aggiornato o come scoprire il prossimo tool che sarà popolare e quindi mi procurerà lavoro. Anche perché, come ho detto, la maggior parte di questi framework evolve in maniera rapidissima. Vi faccio l'esempio di React. React, fino a qualche anno fa, raccomandavano di usare, di creare dei componenti usando le funzioni. Poi hanno detto, magari non usate più le funzioni per creare i componenti, usate le classi, le classi JavaScript. E poi adesso di nuovo, oh no, guarda, non usate le classi, usate le funzioni ma con quest'altra tecnologia che abbiamo introdotto, quest'altra funzionalità che abbiamo introdotto, che si chiama Ux. Quindi, vedete, è sempre, questo nel giro di qualche anno, e quindi è sempre in evoluzione. Di nuovo, React usa dei concetti semplici, diciamo così, fondamentali, che sono per esempio i componenti, e usa JavaScript. Quindi quelle due cose rimangono ovviamente sempre, ed è una single page application. Quindi questi concetti sono quelli che bene o male rimangono. Quindi quello che voi dovreste cercare di focalizzarvi non è tanto su come stare aggiornato o qual è il prossimo tool o framework da imparare, ma è come faccio a diventare un buon informatico. Questa è la domanda, in un certo senso, giusta. Come scelgo gli strumenti giusti per quello che devo fare, e quello che devo fare da una parte sarà cercare di diventare un buon informatico, e dall'altra sarà non essere troppo preoccupato, troppo impaurito o intimidito dalla nuova tecnologia o da questi nuovi framework. Siete incuriositi su come funziona uno di questi framework come React, per continuare a citarlo, che sono moderni, che sono utilizzati, che sono anche molto utilizzati nel mondo di vista, dal punto di vista industriale? Provatelo, fate un'applicazione ad esempio, perdeteci un giorno, non vi trovate bene, non funzionerà, funziona così così, non importa. Provateci, sbatteteci la testa e costruite pezzettino per pezzettino quello che dovete fare, come dovete farlo. Fatevi, se volete, l'esperienza, siate curiosi di scoprire come funzionano le cose nel tempo e nel modo che avete. Ora, con tutta questa premessa davanti, non con l'obiettivo di appunto rimanere aggiornati, quanto piuttosto di capire quali sono gli strumenti più utilizzati al giorno d'oggi, nel 2020, se voi riascolterete magari la versione nuova di questo video l'anno prossimo, magari racconterò cose diverse da quelle che racconto, che vi sto per raccontare adesso. Questa introduzione, a meno che non cambi idea, sarà invece più o meno sempre uguale, ma ovviamente gli strumenti e i tool che vi andrò adesso a raccontare, il che cosa c'è dopo, quali sono questi tool che posso ragionare per vedere se sono giusti per quello che voglio fare, voglio fare un'applicazione web per me, per un'azienda, per 150 persone, per un social network, un sito giornalistico, il tool giusto per lo strumento giusto o l'insieme di tool giusti per lo strumento giusto, per l'obiettivo giusto. Quindi adesso vado a raccontarvi alcuni dei tool che oggi, nel 2020, sono di alcuni strumenti, diciamo così, che nel 2020 sono da una parte popolari e dall'altra rappresentano buone pratiche, partendo da alcuni siti, alcune risorse per approfondire certi aspetti di nuovo di base, certi aspetti fondamentali che noi non abbiamo potuto vedere nel corso perché non è un corso a tempo infinito. E partiamo da questo. Questo si chiama Web Fundamentals ed è un sito di Google, mantenuto da Google, che è una reference anche con le loro opinioni per costruire esperienze web che siano, secondo chi l'ha scritto, amazing, che siano fantastiche, con una serie di cose da fare e cose da non fare. Quindi per esempio si parla di velocità, di performance, argomento che noi non abbiamo ovviamente considerato, performance nel server, ma anche performance nel front-end. con anche puntatori su cose nuove e cose possibili, quali nuove sperimentazioni hanno aggiunto in Chrome o negli tool degli sviluppatori in Chrome. tecnologie anche non totalmente ancora standard, come le Web Notifications, quindi la possibilità di ricevere notifiche come quelle del vostro smartphone ma su un computer, o come rendere un sito offline, o come abilitare queste Progressive Web App, quindi applicazioni web che si possono in un certo senso installare sullo smartphone, ma rimangono siti web alla fine, rimangono applicazioni web, non sono applicazioni native dello smartphone, ma possono installarsi sullo smartphone e fare finta comportarsi e avere un'interazione simile a quella dello smartphone. E questo sito anche del Code Lab, per esempio la vostra prima Progressive Web App, partire con il Web Serial, quindi aprire dal browser, da JavaScript, una connessione seriale, un socket, l'equivalente di un socket con, appunto seriale però, con un dispositivo hardware collegato al computer. Push Notification, siti multi device, quindi non solo responsive ma anche che sfruttino le capacità di ogni singolo dispositivo. Per esempio sullo smartphone uno potrebbe accedere all'API per abilitare la fotocamera e quindi da un sito recuperare, fare delle foto, fare dei video, non con un'app vera e propria ma con un sito. Esempi per come sistemare le performance delle applicazioni web e anche altri esempi. E nelle guide, che è la parte forse più, anche particolarmente interessante, c'è qualcosa sul design, sulla user experience, molto molto importante l'accessibilità. Noi l'abbiamo giusto citata qua e là, ma qui c'è un buon punto di partenza su certe cose da tenere in considerazione, oltre alle Web Content Accessibility Guidelines, la WCAG, che è anche linkata sul sito del corso. E capire anche cosa vuol dire la diversità e cosa vuol dire l'accessibilità. Perché una persona può essere, per esempio, avere delle disabilità motorie in maniera permanente, a causa di magari delle malattie, o perché è nato con quel tipo di disabilità, oppure potrebbero essere disabilità temporanee, perché sono caduto dalle scale e mi sono rotto la gamba e quindi ho dei problemi a camminare. Nel mondo Web può essere che mi sono rotto il braccio e quindi non posso usare agevolmente la tastiera o il mouse. Ho fatto un'operazione agli occhi, per cui non riesco a magari vedere bene perché sto guarendo. E allora gli strumenti sul Web che possiamo utilizzare per l'accessibilità sono in realtà possono essere una facilitazione all'utilizzo dei siti Web e delle applicazioni Web per tutti, non solo per le persone cieche o quelle che sono su una sedia a rotelle dalla nascita, ma per tutti perché appunto la disabilità può anche essere, l'accessibilità può essere anche utile per queste che possiamo chiamare disabilità temporanee. Quindi qualcosa che ci capita, che ci impedisce di sfruttare l'applicazione Web come faremmo di solito. Oppure qualcosa sulla realtà virtuale all'interno del browser. Molto importante le performance, per esempio qui c'è una bella guida su come ottimizzare JavaScript, il lazy loading delle risorse, come ottimizzare le performance sia di caricamento sia quelle di rendering, quindi l'esecuzione del JavaScript e quant'altro. Con anche esempi e grafici per permettermi di capire e anche utilizzando ovviamente gli strumenti di sviluppatori che sono messi a disposizione dal browser, in questo caso da Chrome, ma anche da altri browser. Per molte cose non c'è una grossa differenza. E hanno anche un grosso capitolo, o meglio un capitolo sulla sicurezza che noi abbiamo giusto visto sulla parte finale per quanto riguarda il login, per quanto riguarda l'autenticazione e l'autorizzazione, ma ovviamente la sicurezza ha una grossa parte nel mondo Web. Quindi questi sono solo alcuni puntatori che qualcuno magari più interessato sulla sicurezza può approfondire quello, questo, magari qualcuno più sulle performance, o magari una lettura ad alcune cose. E infine in questo Web Technology c'è anche una parte di tecnologie di base. E vedete, queste tecnologie di base sono alla fine quelle che abbiamo visto anche noi in parte, no? La parte async di JavaScript in moduli, le Promise e anche HTML DOM. Loro poi si focalizzano anche su questi Web Component che sono componenti, sono una serie di specifiche HTML5 che poi in realtà vengono sfruttati da framework, single page application, come React o quant'altro, come uno Shadow of DOM o quant'altro. Quindi strutturare la pagina concentrandosi su singoli componenti che sono in grado di renderizzarsi da solo. Quindi ragionare non più a livello di pagina o di funzioni che modificano il DOM della pagina, ma ragionare a componenti. Questo è un po' il presente e il prossimo futuro, forse, del Web, quantomeno secondo quello che posso dirvi nel 2020. Un'altra risorsa, non testuale questa volta, ma audio video, è questo canale, sempre di Google, che si chiama Google Chrome Developers, eccolo qui, che ha oltre a una serie di storie, di successo, di novità, tipo cosa c'è di nuovo in Chrome o un'introduzione dei podcast, anche una serie di serie, diciamo così, serie video, di video brevi, vedete 53 secondi, 10 minuti, 16 minuti, 18 minuti, quant'altro, sullo sviluppo Web. Da come fare il visual design nel browser di siti web, a show di developer, in cui ci sono varie show tipo designer verso developer, a tip, suggerimenti per le performance, quindi come migliorare le performance, come anche specifici di alcune piattaforme tipo WordPress o altri, appunto, sullo speed, le performance di nuovo, una serie di video di playlist sul Progressive Web App e anche alcune cose su dei tool specifici che uno può utilizzare, nonché sulla progettazione dell'esperienza utente e dell'accessibilità. Quindi una serie di playlist che possono di nuovo essere interessanti da seguire. Progressive Web App è un'altra di quelle cose, insieme all'isomorphic e tutte queste cose qui, che sta prendendo abbastanza piede e non è molto distante, usa le stesse basi che già utilizziamo, che abbiamo già visto per il mondo web. Quindi queste sono appunto una serie di playlist, una serie di risorse che spesso sono anche accompagnate da delle pagine scritte, però per esempio questa qui sulle performance, vedete, ci sono una serie di 9 video sulle performance, tutte abbastanza molto piccole, che sono tip, come ridurre le dimensioni dell'immagine, come caricare la pagina più velocemente, come ottimizzare il codice e quant'altro. Molto concentrate sul front-end, ma comunque importanti. Perché per esempio si parla di ridurre le dimensioni delle immagini? Perché le immagini ovviamente sono trasferite, come abbiamo visto nel video precedente, con il CSS e il JavaScript, sono trasferite a ogni richiesta di pagina. Quindi se la nostra pagina ha tante immagini da 10 MB ciascuno, noi trasferiamo 10 volte 10 MB ciascuno per ogni singola pagina, e quindi ovviamente carichiamo molto sia il server, sia la persona che sta visitando il sito, scusate, sia il browser e la persona che sta visitando il sito deve aspettare il caricamento di queste 10 immagini o dei 10 MB, prima di poter effettivamente navigare, utilizzare e sfruttare la pagina del sito. E questo è un pochino più documentazione. Ci sono poi altri link sulla pagina del corso, in fondo alla pagina del corso, che possono essere utili per approfondire certi argomenti. E questo appunto sulla parte di, diciamo così, documentazione, approfondimento di argomenti. Sulla parte di tool vorrei giusto parlarvi di quattro strumenti e di tre framework che sono al giorno d'oggi molto molto utilizzati. I quattro strumenti sono questo. Il primo è Babel. Babel è un compilatore per JavaScript. Ora, JavaScript è il linguaggio interpretato, come abbiamo visto. Questo è un compilatore che ci permette di supportare le nuove funzionalità di JavaScript anche sui browser che non le supportano. Quindi noi potremmo per esempio implementare i web component che sono supportati sui browser relativamente recenti e prendere questa applicazione fatta con web component, passarla a Babel e Babel restituisce un'applicazione JavaScript che funziona anche su un browser di 5 anni fa, di 7 anni fa e così via. Per esempio, se noi, questo mi sembra fosse animato prima, esatto. Per esempio, se noi scriviamo del JavaScript che funziona adesso ma una volta non era presente, tipo questo, tipo l'operatore di spread o quant'altro, lui genera un JavaScript che è compatibile con tutti i browser più vecchi, con tutti i browser compresi anche quelli più vecchi. Quindi questo è uno strumento di supporto al tool. Per esempio vedete il template literal lo trasforma in una concatenazione di stringa perché nei browser più vecchi non c'era. Quindi questo è uno strumento molto utile per continuare a scrivere un JavaScript moderno ma rendere il nostro sito, la nostra applicazione web compatibile anche con quei browser che sono o non completi oppure, quindi non implementano tutto ECMAScript all'ultima versione, oppure sono un pochino vecchi. E questo si chiama Babel, proprio ispirandosi alla Torre di Babele. Un altro tool carino e utilizzato si chiama Webpack. Webpack è un tool quasi di, diciamo così, performance, nel senso che un'applicazione web, come quella che per esempio abbiamo costruito noi, può avere tante immagini e tanti file JavaScript, tanti file CSS e usare anche diverse tecnologie. Qui abbiamo due immagini diverse, un PNG e un JPEG, un file JavaScript, HBS è uno di quei, è un'estensione di templating come EJS, però è Handlebar si chiama, SAS è un'estensione di CSS per cui permette di fare, di scrivere, diciamo così, un CSS utilizzando gli import, utilizzando qualcosa che il CSS non ha e poi va ovviamente compilato nel browser per un CSS normale. Per il CSS che il browser sa leggere, perché il browser non sa leggere questo SAS, quindi che è un superset SAS di CSS. Aggiunge funzionalità al CSS normale che sono comode per lo sviluppatore. e quindi uno ha tutto questo in un'applicazione e tramite Webpack ottiene per esempio un file JavaScript composto dall'insieme di tutto quello che ha del JavaScript all'interno, un file CSS composto dalla compilazione di questo SAS e la sua traduzione in CSS normale e le due immagini, una PNG e una JPEG in maniera ovviamente però statica. Quindi invece di avere un mucchio di componenti con le loro dipendenze l'una con l'altro, abbiamo quattro file magari molto grossi, magari anche minimizzati, quindi senza spazio eccetera, in modo che la dimensione in KB sia più piccola, compressi in un certo senso, o meglio anche compressi, ma soprattutto togliendo gli spazi, togliendo da capo in modo che minimizzati, in modo che appunto siano più piccoli perché tutte le informazioni non importanti come gli spazi, gli a capi, non importanti per un browser, non tanto per una persona che legge, come gli a capo, l'indentazione e tutte queste cose qua, che però occupano spazio su disco, poco, vengono poi messi tutti in un unico file in modo da non avere 50 richieste diverse a file JavaScript, ma un unico file che ha tutto dentro. Quindi questo webpack è un tool che prende tutto quello che voi potete avere e genera dei file che possono essere poi usati nel browser per la parte di produzione, ovviamente non tanto per la parte di sviluppo, in maniera più semplice e quindi ottimizzata da un punto di vista delle performance. Il terzo tool invece si chiama Mocha, che è un framework di testing per il server, per Node.js, per Node.js più che per il server. Testing perché è un'altra cosa importante per degli informatici, magari l'avrete visto a ingegnere del software, è ovviamente imparare a scrivere e a fare del testing del vostro codice. Quindi scrivere dei test che verifichino che il vostro codice funzioni sempre e non ci siano bachi che non avete mai sperimentato perché non avete mai pensato di cliccare su quel link o di fare quella chiamata REST o comunque certi parametri. Allora dei test sono una modalità automatica per esplorare le possibilità che appunto potete potete insomma intercettare le eccezioni che magari a mano non dovete provare in maniera automatica. Quindi impostate dei test oggi, li provate sul vostro codice di oggi e poi lo stesso test, magari con piccole modifiche perché è venuto in mente qualcos'altro, lo potete applicare identico sul codice di domani, sul codice di una settimana, sul codice di fra sei mesi. Quindi le stesse test potete provarli su file diversi all'interno del vostro progetto e quindi sperimentare i vari casi, le varie eccezioni in modo da intercettare i problemi maggiori e le eccezioni che non sono correttamente catturate e gestite o gli errori che non avete catturato o gestito correttamente perché non avete pensato che quel tipo di errore poteva mai capitare. Quindi questo è un framework per testing per Node.js e anche nel browser ma principalmente per Node.js che ovviamente funziona in maniera sincrona e quindi permette il testing in maniera sincrona che appunto è la proprietà caratteristica di JavaScript. Il quarto strumento che in realtà non è tanto uno strumento è un'estensione di JavaScript che si chiama TypeScript che è stato creato originalmente da Microsoft e credo sia ancora mantenuto se non del tutto in parte da Microsoft che è una versione di JavaScript in cui aggiungiamo il tipo alle variabili e aggiungiamo principalmente il tipo alle variabili e poi aggiungiamo altri controlli quindi rendiamo JavaScript un pochino più da una parte preciso e dall'altra un pochino più chiacchierone se vogliamo come in questo esempio mostrato qui in cui questo addPrices dà subito un errore che dice aspetto un argomento ma ne ho 3 invece nel JavaScript normale questo errore non c'è perché è possibile ovviamente passare più di un argomento a una funzione e lui ignorerà gli altri due. In questo caso dato che ne aspetto uno solo e dato che questo item è un array vedete ho indicato qua è un array di numeri allora vi aspetto un solo argomento che è un array. quindi aggiungo i tipi, definisco i tipi nei in JavaScript con qualche piccola variazione al linguaggio però è un'estensione, è un superset di JavaScript che è molto comodo per gli sviluppatori per soprattutto intercettare alcuni tipi di errori o scrivere con più sicurezza, con più tranquillità certe porzioni di codice e questo si applica ovviamente dovunque volete scrivere JavaScript ed essendo nato da Microsoft ovviamente è pienamente compatibile e penso sia già installato di default in Visual Studio Code. Quindi questi sono 4 tool più un linguaggio che sono molto interessanti da tenere d'occhio o da tenere in considerazione come piccoli prossimi passi. un compilatore per passare da un JavaScript moderno a un JavaScript non così moderno webpack per prendere tutti i vari file divisi i vari moduli che si linkano uno all'altro in vari linguaggi eccetera e avere un file per ogni singolo asset per ogni file JavaScript, un file CSS pronto da dare al browser un framework per il testing JavaScript e un'estensione di JavaScript per renderlo tipizzato tipizzato staticamente. e oltre ai 4 tool volevo giusto brevemente raccontarvi quali sono i 3 framework che vengono utilizzati al giorno d'oggi per applicazioni single page application per applicazioni web, quindi solo stile delle single page application e questi 3 framework sono React, Angular e Vue. Partiamo da React. React è un framework JavaScript, una libreria JavaScript per costruire interfaccia utente web che è dichiarativa, basata su componenti su quei componenti che dicevo prima quando abbiamo visto brevemente la documentazione web fondamental di Google e anche un'estensione che si chiama React Native che serve per scrivere lo stesso stile dichiarativo component based per costruire interfacce grafiche, interfacce web ma che funzionino anche in maniera nativa su smartphone e quant'altro. Quindi utilizzando quasi lo stesso codice dichiarativo di React per il web è possibile portare quella stessa interfaccia grafica con le stesse funzionalità, con la stessa interazione anche con qualche cambiamento ovviamente anche come applicazione nativa per smartphone e quant'altro. React è in questo momento particolarmente popolare e si basa su questo concetto di componenti praticamente lui definisce dei componenti per esempio che sarà composto da un div, da una scritta hello e da un div tag div chiuso. Quindi lui ragiona componenti in maniera dichiarativa quindi la pagina HTML è composta da tanti componenti diversi alcuni personalizzati, alcuni standard e quant'altro. e ovviamente per funzionare poi lui usa Babel perché questo non è sicuramente accettato questo spesso non è accettato da molti browser quindi viene compilato da Babel in un javascript in vanilla javascript come quello che potremmo scrivere noi a mano ma ovviamente offre tante funzionalità in più come un sistema plugin, come il fatto che ogni componente pensa renderizzare se stesso, ha un concetto di stato dell'applicazione web e così via. React come vi accendavo prima è stato realizzato da è stato creato da Facebook ed è tuttora mantenuto da Facebook e utilizzato anche all'interno di Facebook. Angular è invece un altro framework che spesso viene utilizzato anche per le single page application sempre in javascript anche lui nelle ultime versioni basato sul concetto di componenti ma invece di essere fatto e mantenuto da Facebook è stato creato e mantenuto da Google anche lui molto utilizzato ad oggi direi che React e Angular sono dei dubbi più popolari e più utilizzati in generale sui framework per i front-end forse in questo momento oserei dire e questa è di nuovo una parte di opinione che React è lievemente più utilizzato proprio perché abilita anche un nuovo modo di fare le cose che invece Angular sta adottando un pochino più se volete lentamente diciamo così. Infine un altro framework che però non è supportato in un certo senso non è stato creato né da Google né da Microsoft né da Facebook né da quant'altro è questo Vue che è un framework javascript progressive che è molto performante e molto versatile quindi forse è un pochino più se volete semplice rispetto agli altri due è abbastanza utilizzato anch'esso infatti diciamo questi sono i top 3 più utilizzati in questo momento credo che React e Angular sicuramente abbiano soprattutto React ci sia più rumore intorno a React che non intorno a Vue e Angular però sono tre comunque framework ampiamente utilizzati diciamo nel mondo per interfacce per realizzare web application lato front-end ovviamente e tutti e tre hanno anche poi la possibilità sono framework front-end ma hanno poi la possibilità di avere estensioni per il routing per esempio React non ha incorporato il routing, Angular invece sì il routing come quello che abbiamo fatto noi con page.js e per esempio la possibilità di avere questo isomorphic javascript quindi un po' renderizzato nel browser come abbiamo fatto noi con la nostra single page application e un po' anche però renderizzato nel server come nell'approccio tradizionale quindi mischiare, unire il migliore dei due mondi con dei plugin, delle estensioni che sono proprie di questi tre framework ok questa è giusto una panoramica delle cose più popolari più utilizzate nel 2020 e penso che durante i seminari che ci saranno uno il 10 giugno, uno il 12 giugno sentirete parlare sia di Vue che di Angular che di React e anche di TypeScript non so se parleranno di Mocha, Webpack e Babel però questi sono giusto puntatori per se volete approfondire o se volete andare avanti su qualche specifica strada ricordando sempre che la domanda giusta non è come faccio a stare aggiornato a stare dietro a tutte queste tecnologie ma in quanto da una parte non è possibile dall'altra ricordo che le cose fondamentali non cambiano queste cose scritte qui, queste base technology sono tutto sommato ancora loro si evolvono ma bene o male sono ancora loro e che la domanda giusta è come faccio a scegliere quali strumenti scelgono, quali sono gli strumenti giusti per quello che devo fare allora in questa seconda metà del video ho cercato di raccontarvi alcuni strumenti che possono essere giusti che possono essere appropriati per quello che potete fare come per esempio Babel per abilitare di nuovo l'utilizzo del vostro codice anche su framework più su browser più vecchi Webpack per ottimizzare un po' le performance Mocha per avere testing molto importante e TypeScript per avere un JavaScript staticamente tipizzato che aiuta voi sviluppatori aiuta gli sviluppatori del codice a trovare meno problemi e intercettare i problemi prima che capitino in esecuzione ovviamente TypeScript poi ha bisogno di essere tradotto in JavaScript per essere letto da un browser di nuovo con Babel però è ovviamente un modo diciamo così che per scrivere codice vi aiuta e vi intercetta molti errori che se no dovreste scoprire quando il browser esegue la vostra applicazione e infine tre possibili grosse framework molto molto utilizzati oggi che possono essere uno di questi tre o due di questi tre possono essere una cosa su cui magari quest'estate o quando avrete un pochino di tempo o di voglia spendere quella giornata per fare qualcosa e capire per sperimentare qualcosa di nuovo con un po' di curiosità senza di nuovo aver paura o essere intimidati e intimiditi da queste nuove tecnologie questo video è anche l'ultimo del corso quindi ringrazio chi ha seguito questi video fino alla fine fino a quest'ultimo e vi auguro in bocca al lupo per chi deve fare l'esame di questo corso e saluto tutti grazie